Ok, sono qui con lei, mi ha portato le mollette e ora accetto la sfida di mettere un bel kit completo con le mollette. Vediamo se ci riesci. Non so se ci riuscirò, però ci sta, ci sta. La sfida è un bel po' difficile. Ok gente, come primo step, pulizia. Pulizia. Ok. La pulizia non è semplice ragazzi con le mollette, perché dobbiamo stare anche attenti a non calciare il telefono, quindi devo spezzare la mia mano. Perfetto. Allora, prendiamo la pellicola. Non ho voce, però ci provo. Aiuto. Non so se ce la faccio, però no. Ok. Ce la sta facendo. Non è facile però, eh. Ok, pellicola davanti in mezza. Eccola qua. Uh. Animalier. L'animalier è più difficile, quindi ci proviamo. Ok. Vai. La regina delle mollette oggi mi ha messo in difficoltà, giuro. Ma tanto te riesci a metterla. Aspetta. La regina delle pellicole. Oddio. Mi sento, Edoardo, man di forbici. Te lo giuro. Ok. Animalier. Animalier. Ma cosa? Polizia. E come fanno male queste mollette? Buongiorno. Ciao tutti. Sì, mi sento con le ragazze con le lunghissime. Questa è anche ASMR. Sì, la faccio mi metto in silenzio. Raga, fa male. Fa male. Risultato finale. C'è riuscita. C'è riuscita. Scommessa. Quinta. Gente sommettere le pellicole anche con le mollette. Ciao. Addio. Ciao. Ciao.